Tivelli in area, attenzione, Tivelli, stupendo, il gol di Tivelli, ottimo, veramente molto bello, scatto di Pavone, attenzione a Baresi, quindi al centro di Michele, palla in rete, palla in rete, la Cavese è passata in vantaggio. Il 7 novembre di 38 anni fa, Marco Civoli, all'epoca giovane telecronista, emergente e non ancora arrivato alla redazione della TGS in Rai, raccontò quello che sarebbe successo a San Siro. La partita fu trasmessa dalla nostra emittente, che aveva i diritti per la differita, e si rivolse, come spesso accadeva a quel tempo, alla televisione locale, che aveva il nulla osta per accedere nella sala stampa dopo la gara. Alla nona giornata del campionato di Serie B, la Cavese segnò rispettivamente al 26esimo e al 56esimo i due gol con i quali si sarebbe portata sul 2-1, ribaltando il risultato che era stato sbloccato per il Milan al 23esimo da Jordan. Un pallone che, a giudizio dell'arbitro Falzier, avrebbe varcato la linea di porta, ma ancora oggi non riusciamo a capirlo. Era un Milan che in B era retrocesso sul campo, ma aveva molti giovani nelle sue file, e alcuni di questi costituirono poi l'ossatura della squadra, che fu in grado di vincere titoli nazionali e internazionali. La formazione iniziale dei rossoneri era un 4-4-2, Piotti, Icardi e Devani, Pasinato, Tassotti e Baresi, Cuoghi, Battistini, Jordan, Verza e Serena. Sarebbero poi entrati Romano al posto dell'infortunato Verza e incocciati in luogo di Cuoghi. Allenatore Castagner. Per la Cavese la risposta fu Paleari, Gregorio e Pidone, Bitetto, Guida e Guerrini, Cupini, Piangerelli, Di Michele, Pavone e Tivelli. Il modulo era 3-4-1-2. Entrarono in seguito il centrocampista Puzzone per Tivelli e il veloce attaccante Bilardi per Di Michele, con i bianco-blu già avanti nel punteggio. Allenatore Pietro Santin. Marcature serrate da parte dei bianco-blu, con Pidone e Guida rispettivamente incaricati di prendere Jordan e Serena, il Milan era abituato ad andare vicino all'area avversaria con palloni alti per le torri, avendo appunto due marcantoni nel settore d'attacco. E proprio su una palla alta arrivò il gol di Jordan, al ventitresimo. Piangerelli spazzò via, ma l'arbitro falsier di Treviso convalidò la rete. Pochi minuti più tardi assist di Cupini, scivolata di un centrocampista avversario che favorì Tivelli, il quale provò la conclusione da 15 metri e batte Piotti. Poi al cinquantaseiesimo Pavone approfittò, come vedete, di un errore di Baresi e mise la palla al centro dalla destra e lì Bartolomeo Di Michele, centravanti un po' grezzo tecnicamente, ma terribilmente concreto in zona gol, mise dentro di testa. Poi fu un assedio, ma il Milan non riuscì a pareggiare la partita. Vinse la Cavese 2-1 e quella fu l'ultima sconfitta interna nel campionato di Serie B per i rossoneri, che addirittura già a maggio 83 avrebbero poi festeggiato il ritorno in Serie A. Spettatori circa 60.000 per Milan-Cavese e le cronache dell'epoca raccontano che i tifosi in trasferta erano oltre 5.000. Allo stadio Meazza fu assegnato a questi ultimi il settore curva, che solitamente veniva riservato ai supporter dell'Inter quando i nero-azzurri giocavano in casa. Vincendo a Milano, la Cavese dimostrò che anche nel campo sportivo, e non solo in quello biblico, il giovane Davide avrebbe potuto sconfiggere il gigante Golia attraverso la preparazione, il sacrificio e anche sapendo soffrire. Grazie a quel risultato di 2-1, i metelliani salirono al quarto posto, a 12 punti con nove partite giocate, e il Milan rimase comunque in testa, ma agganciato da Lazio e Arezzo a 13 punti. Fino alla penultima di campionato, la società metelliana del patron Guerino Amato era stata in lotta per arrivare in Serie A. Qualcuno ribattezzò la Cavese di allora come la Real Cavese, anche se purtroppo dopo pochissimi anni quella Cavese fece splash. Ma non è l'unica fiaba commovente che ha riguardato il calcio italiano. Per le entrate economiche che una promozione in Serie B assicura, riuscì ad arrivare in Serie A la Reggiana nel 93. Poi questa impresa l'hanno raggiunta il Chievo nel 2001, il Modena nel 2002, è stato molto vicino a farlo il Mantova nel 2006, così come il Trapani nel 2016. Ma non dimentichiamo nemmeno i miracoli sportivi del Carpi e del Benevento. Anche il Sassuolo e la Spal sono arrivate con grande forza di umiltà alla massima Serie, così come pure il Crotone e il Frosinone, lo Spezia la scorsa estate. Proverà ad arrivarci pure il Monza, ma l'impresa fatta dalla Cavese ha diritto di rimanere nella storia. Anche perché, come ricorderete, alla festa del centenario di un anno e mezzo fa, i tifosi metelliani celebrarono così Costante Tivelli, autore del punto dell'1-1 a San Siro, presente a quella ricorrenza.